A ridosso del suffragio e della conmemorazione di tutti i defunti, come sindaco e amministrazione comunale ho ritenuto opportuno dedicare questa lapide a questi cittadini di Castiglione Fiorentino che dal 24 marzo del 2020 fino all'8 aprile scorso non hanno potuto avere le esecue funebri a causa dell'emergenza sanitaria che ha impedito lo svolgimento di funerali. Sono 18 i castiglionesi morti durante il lockdown a demesi di marzo e aprile e quindi senza un funerale in quei mesi infatti come noto tra le norme imposte per contenere i contagi da covid-19 non era stato possibile effettuare cerimonie funebri e adesso il comune di Castiglione Fiorentino ha deciso di ricordarli con una lapide, il marmo è stato apposto all'ingresso del cimitero comunale. A perenne ricordo loro con auspicio che tutto questo non possa più accadere. Nei mesi scorsi infine il sindaco in accordo con i parroci aveva firmato un'ordinanza apposita nella quale venivano indicate le chiese più capienti e gli spazi aperti più idonei dove poter celebrare i funerali religiosi al fine di renderli sempre e comunque possibili.